Ah ragazzi, sta finendo la partita 4-1, mancano 30 secondi quindi penso che rimanga 4-1, che non diventi 5-1 perché il Napoli si è fermato, comunque sia, come voglio dire, la Lazio è il primo tempo fantastico non ha giocato una squadra aggressiva, veramente c'è stata solo la Lazio fino a quando non ha preso il gol da Caleona che è stata una stupidaggine perché era una punizione, veramente una disattenzione stupida perché fino a quel momento ovviamente la Lazio aveva dominato, erano stati aggressivi Milinkus Savic aveva giocato una partita superba, può migliorare un po' nella tecnica ma per il resto Milinkus Savic è un giocatore assurdo, ma tutti i giocatori da Lazio hanno giocato bene i centrocampisti che ha finito adesso, i centrocampisti, a parte i mobili, i mobili non mi è piaciuto tanto oggi è stato un po' in ombra, a Lazio il primo tempo è stata la padrona del campo, dopo chi entra, fine il primo tempo e non so se dice qualcosa a Sarri, se non dice, comunque sia Lazio scoppia e scoppia fisicamente ma non ci sta, non ci sta che tu dopo un tempo scoppi finalmente, perché scoppia al settantesimo se fa un pressing alto e tiene un ritmo forse nato, non scoppia fino a meno tempo quindi non lo so che cosa succede, sicuramente il Napoli entra dentro il più concentrato hanno cominciato a fare le palle dentro fuori, dentro fuori massimo due tocchi, veramente credo solo a Lan e qualche azione personale ma per il resto hanno giocato tutti i due tocchi, cioè a un certo punto non ci hanno capito niente i giocatori da Lazio perché hanno giocato tutto di prima ma non i giocatori più tecnici, anche Koulibaly, quindi questo è sicuramente il lavoro che fa Sarri e poi vabbè, sono andati giù con la valanga, perché il secondo tempo probabilmente il Napoli va a fare 5-6-7 gol, hanno avuto un sacco di azioni la Lazio è scomparsa letteralmente il secondo tempo, scomparsa, non c'è stata in campo quindi non lo so che cosa è successo, però probabilmente anche la questione fisica perché comunque la Lazio veniva dalla partita con il Genova che aveva giocato male o bassa intensità, e probabilmente aggredendoli così, non lo so, sono scoppiati, ma il Napoli comunque una capacità di recuperare e di partire che deriva dalla consapevolezza e da veramente i meccanismi che stanno in testa perché loro prendono un gol e dicono, vabbè non fa niente, perché non andiamo avanti boom 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 boom, un attimo, uno, due, tre gol li fanno a parte la Juve, la Juve è l'unica squadra che ha vinto nel San Paolo, domina cioè domina, avvince, poi domina, è opinabile, però comunque sì, la Juve ha vinto secondo me ho visto qua partita anche meritoriamente, per quanto voglio dire quei tifosi da Juve che penso io stia qui aspettando che la Juve faccia passi pazzo, quando non hanno capito da me non me ne frega un cazzo, veramente detto questo, ragazzi, la terza della classifica, cioè si allunga, si allunga ancora la classifica perché comunque sì, anche se la Roma e l'Inter vinceranno, sarà aumentato il divario tra la seconda e la terza in classifica queste due squadre che non si fermano più, Juve e Napoli che continuano a macinare punti su punti e non so, un po' è perché il campionale è diventato uno schifo rispetto a quelli degli anni 90 un po' è perché comunque effettivamente la Juve, come dice il buon caro Spalletti, esce a due squadre il Napoli gioca a memoria e fa veramente un gran bel calcio, hanno degli automatismi incredibili questo è quanto, vediamo la fantastica Roma domani col Menevento che cosa farà questa è un'occasione a non perdere perché la Lazio ha perso mi dispiace veramente per i tifosi della Lazio, per la prima fantastica squadra della capitale è andata così, comunque sia a Napoli perdono tutti comunque domani a Roma dovrà vincere ciao Tattico, ciao a tutti, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima